Salve amici del Centro Medio Italiano, correnti stabili affluiscono sull'Italia portando ancora tante piogge. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 22 novembre. Al mattino precipitazioni diffuse interesseranno le regioni settentrionali come quelle tirreniche, con neve sui rilievi localmente sotto i 1000 metri, sole prevalente solo sul medio e basso versante adriatico. Nuvolosità in aumento al pomeriggio su tutta Italia, ma con fenomeni sparsi ancora solo al nord e sul versante tirrenico. In serata e in nottata le piogge andranno ad esaurirsi al centro-sud, le regioni settentrionali invece saranno bagnate da precipitazioni man mano sempre più intense ed iniziare da Liguria e Piemonte. Neve sulle Alpi fino ai 1000-1200 metri. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre le massime tenderanno ad aumentare specie al centro-sud. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.